Buona ripartenza a tutti i piccoli commercianti, imprese e attività del nostro territorio. La BCC Buccino Comuni Cilentani è presente per supportarvi in questa fase con un numero di assistenza dedicato. I nostri dipendenti sono a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie. Chiama per ricevere assistenza alla navigazione sul sito web, avere spiegazioni e supporto alla predisposizione di una domanda, veicolare eventuali necessità di consulenza e approfondimenti al gestore di competenza, creando un appuntamento, essere indirizzato sulle stanze verso le filiali competenti, ricevere le principali informazioni e soluzioni per le tue specifiche esigenze sulle misure economiche di emergenza COVID-19. Chiama il numero dedicato 800 98 38 70. Puoi sempre prenotare una videoconsulenza o un appuntamento in filiale dal sito www.bccbcc.it. Distanti ma vicini, insieme, per la ripresa!